Dai cazzo ragazzi, ma che cazzo di sconfitta è? Ma dai, ma porca puttana, ma fate cagare! Ma fate veramente cagare! Ma come si fa a perdere un a zero con Lecce a Firenze? Ma forse sta anche a Lecce! Ma porca puttana! Questi ora hanno fatto l'impresa incredibile, fanno bene a esultare! Perché noi facciamo cagare! C'era quel rincoglionito di tiribocchi con quell'altro, mi ricordo, stavo vedendo su Dazon che dicevano, eh ma, insomma, bisogna rendere onore a questo grande Lecce, insomma, non mi sento tanto di irritare la Fiorentina Ma che cazzo dici? Che quegli altri in campo praticamente camminavano e sbagliavano ogni passaggio, non facevano due passaggi di fila Oggi si è perso perché si fa a cagare, perché si è tirato 500 volte, mai una volta si è preso la porta L'unica volta che si è preso la porta si è trovato Spider-Man, probabilmente, perché quello non è Gabriel, quello è Spider-Man E quindi, che senso ha dire che il Lecce se l'è meritata? Se l'è meritata perché noi facciamo cagare, ma non se l'è meritata, perché ha tirato due volte in porta, forse Perché anche il gol di Lamantia, la donna si è preso il gol di Lamantia Il gol di Lamantia forse era un autogol, insomma, e cazzi vari, no? Ma sti cazzi, comunque, tre punti si sono persi E Dragoschi, che ogni tanto gli era partito il grullo anche a lui, insomma, e quindi magari partiva Ma ragazzi, ma, cioè, nel senso, ma rendiamoci conto A me non me ne frega niente che Riberi è uscita il 45esimo Non c'era Iesa Pezzella ha uno zigomo spaccao e cazzi vari, no? Mi stanno anche chiamando Insomma, cioè, non me ne frega veramente niente Aspetta, dovevo rifiutare, ok Non me ne frega veramente niente di queste cose Perché se sei la Fiorentina e sei a Firenze contro il Lecce La devi vincere, non puoi Non puoi minimamente pensare di pareggiare Questa agli altri anni Gli anni in cui magari nel 2012, 2013, 2014 Gli anni in cui c'era Montella Quello vero, non quello di stasera perché porca puttana, vabbè Si sarebbe vinta 3-4-0, tutti a casa Anche quando iniziava la partita Si sapeva che si vincevano C'era a me bisogno di vederla Invece non si sta a vederla E io già da quando si era preso l'1-0 Io ho detto, subito, da subito Ho detto, ragazzi, questa non si vincerà mai Toglietevi dalla testa anche solo di segnare un gol E per l'appunto ci ho azzeccato, guarda Non si è segnato nemmeno mezzo gol Perché quelli davanti probabilmente sono più scordinati di me Perché io sono scordinato a merda Ma loro sono più scordinati di me Perché Vlaovic, io ho capito Che se è un ragazzo giovane C'è da imparare, Pedro pure Però, vabbè, Pedro ancora ancora Perché magari non ha, insomma, è entrato in campo Ci ha avuto meno tempo e cazzi vari Ma anche lui ha sbagliato due o tre palle Ma Vlaovic ha sbagliato due o tre occasioni Ma nitidissime Cioè ce n'è una davanti Alla porta A cinque metri dalla porta Sei o sette Facciamo proprio per dargli Il dubbio, insomma Sei o sette metri dalla porta Da solo Non marcato Sul tuo piede La tiri alta Ma sei stupido Come cazzo fai? Io veramente Ragazzi ve lo giuro Non so come 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 Cioè Ancora non sto realizzando Probabilmente Che si è perso contro il Lecce a Firenze Che con tutto il rispetto per il Lecce Perché guarda C'è nessun senso Hanno fatto la partita della vita Sono portato a casa tre punti Sono contento per tutta quella gente L'è venuta a Firenze A vederli Cazzo c'è nel formaggino pieno Sono contento per Baba Har Perché anche lì Quando è uscito Dragoschi Io sono convinto Che te Baba Ci hai voluto bene Perché non hai voluto tirare Perché lì chiunque Avrebbe tirato Ma te ti sei voluto un attimo De filare Hai detto No vabbè Non tiro Io ho visto proprio C'avevi la testa bassa Mi si è sfocato Anche la Madonna C'avevi anche la testa bassa Non sei voluto andare a tirare E hai detto No 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 Aspetta Io non tiro Non tiro Non tiro Gli voglio troppo bene A questi Gli voglio troppo bene E c'hai ragione C'hai ragione Baba Tu ci manchi Mi pane S'hai visto oggi Tu eri in classico Giardatore Tu entravi Tu segnavi Guarda noi Di 3-4 Non se ne fa uno Non se ne fa Perché anche Boateng Entrava Non ha fatto una sega Sì prova Ok Ma ragazzi Non si fa niente E poi una cosa Una cosa voglio dire Ma si va a tirare in porta Ma perché tutte quelle Cazzo Aperture all'esterno La mettene in mezzo Niente respinta Poi di nuovo Apertura di nuovo all'esterno Anzi st'altra volta Dall'altra parte Dalbert la rimette dentro Che gli arriva a Ghezzal Che la rimette un'altra volta dentro Che riesce fuori Gli arriva di nuovo a Dalbert Che la rimette dentro Ragazzi Ma si vuole andare a tirare Ma che cazzo è tutto sto gioco Sì Ma lo vedete Non fate niente Cioè c'è stato Un'occasione Negli ultimi minuti Tipo all'ottantesimo Ottantacinquesimo Dove c'era Boateng Pedro e Vlaovic E Ghezzal da una parte Ma Boateng Tipo davanti a lui Era a 20 metri Senza nessuno a marcarlo Perché i due difensori Erano sui due attaccanti E lui cosa fa invece di tirare Che lui è il primo E sa tirare La passa a Ghezzal Ma allora cazzo siete stronzi Questo vuol dire Che è Montella Che vi inculca Il marcio nel cervello Perché non è possibile Che vi inculca così tanto Il marcio nel cervello Ragazzi Bisogna andare A tirare di più E quelli davanti Aggiustatevi i piedi Con un cacciavite Con una chiave inglese Fate che cazzo volete Ma bisogna metterla dentro Quindi niente Altri tre punti persi oggi Se ne doveva avere Diciamo sei In queste ultime due partite Perché Verona Sì Va bene E Verona Anche se a Verona Ma è il Verona E Lecce a Firenze Ragazzi Io oggi Avevo praticamente Preventivato tre punti Ho tirato tanti Di quei moccoli A vedere la partita Non avete un'idea E di solito Io sono uno Non ne dirà mai Ma Eh Ci siamo capiti No Niente Fatemi sapere sotto Nei commenti Cosa ne pensate Ma Io ragazzi Ve lo giuro Stasera Non so cosa cazzo Non so cosa cazzo Pensare Si era partiti In una maniera Quest'anno Contro il Napoli Contro la Juve Contro l'Atalanta Cioè io ho detto Quest'anno ragazzi È l'annata nostra È arrivata la nuova Ilesi La nuova mission La nuova dirigenza I giocatori nuovi È arrivato a Riberi A Firenze Cioè Pensare qualche anno fa A queste cose Invece niente Siamo sempre i soliti Teste di cazzo Mediocri di sempre Vaffanculo a tutti